Benvenuti nel mio canale. Cosa succederà nel nuovo episodio di Udutsu Zsevda? Non dimenticare di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche. Abbiamo visto un episodio molto divertente. Ilmaz è stato braccato mentre andava a caccia. Ora inizierà a vagare come un leone ferito. Ha sottovalutato Alil Ibrahim e ha commesso un errore. Tutti i leto divennero uno, ma non poterono fare nulla ad Alil. Ilmaz si è divertito con loro. Ha detto, lavoriamo insieme per uccidere Alil, ma anche lui ha fallito. Questa situazione renderà Alil un eroe. Sarà un eroe per tutta la gente della regione. Zeynep e Alil diranno che pensano a se stessi, non ai loro cari, per l'ethos. Non importa quanto Zeynep sia arrabbiata con la sua famiglia, sarà dispiaciuta per loro. Alil dirà che forse nessuno è morto oggi, ma qualcuno morirà. Rizvan, d'altra parte, sarà arrabbiato perché i suoi figli si schierano con Alil Ibrahim e li accuserà di essere traditori. Mentre Alil chiacchiera con la gente del posto in piazza, Ilmaz verrà e mostrerà il suo rancore contro Alil. Alil estrarrà la pistola e vorrà ucciderlo. Ma la gendarmeria si riprenderà. Ilmaz era pericoloso. Ma ora è molto più pericoloso. Perché la sconfitta non fa per lui. L'ethos capirà che essere nemico di Alil non gli farà guadagnare nulla. Rizvan proverà a riconciliarsi con Alili. I tuoi commenti e i tuoi mi piace sono molto preziosi per me. Non dimenticare di mettere mi piace al mio video e di attivare le notifiche. Arrivederci.